Adesso vi mostriamo un omaggio agli operatori sanitari che arriva dal mondo del cinema. Medici e operatori sanitari padovani avranno l'ingresso gratuito per due settimane in due sale, il Porto Asta, il Bassanello, il Multisala, l'Arcella. Basterà mostrare il beige alla Cassa del Cinema per ritirare il biglietto omaggio SIAE e assistere alle proiezioni, ovviamente con i posti contingentati come da nuova normativa e fino ad esaurimento dei posti. L'iniziativa presentata all'azienda ospedaliera da Bruno Abriani, amministratore delegato della società proprietaria delle due sale cinematografiche, è riservato a tutto il personale ospedaliero di Padova dal 25 giugno al 7 luglio. Questa iniziativa, come ha spiegato, è subordinata all'autorizzazione delle case di distribuzione dei film che verranno presentati, al momento escluso che alcune di queste possano porre un veto, ma nella malaugurata eventualità ciò capitasse, ci sarà una tempestiva informazione per gli spettatori nel sito web dei due multisala cinematografici, fornendo comunque un'alternativa nelle altre sale. Prima dei film sarà proiettato il video realizzato dai medici e sanitari dall'ospedale con le loro immagini sulle note di Rinascerò, Rinascerai. Ospite d'onore è stato proprio Robby Facchinetti che ha raccontato come è nato il brano, rifugiandosi nella musica compagna nei momenti difficili. Facchinetti che abita a Bergamo con molta emozione ha raccontato la paura vissuta, le tragiche immagini, la perdita dei familiari e conoscenti. Si poteva solo piangere, no? Perché abbiamo pianto tutti, io ho questo studio a casa mia e mi sono rifugiato lì e volevo semplicemente suonare, perché la musica è in questi momenti, come dicevo appunto prima, serve proprio a non pensare, a evadere, no? Perché è un simbolo di emozione e evasione. Inconsapevolmente è nato invece questo brano, che non so neanch'io da dove sia partito, se è nato dal cuore, dall'anima o da quella porta della creatività, che ogni tanto da lì escono anche delle cose buone. Facchinetti ha poi detto di essere stato colpito dalle parole del dottor Giampiero Avruscio, che l'ha contattato presentandogli il progetto e poi si è emozionato quando ha visto il video realizzato con i volti e le note dei sanitari padovani. Io voglio soltanto dire questo, che quando ho chiamato Robby Facchinetti, gli ho illustrato soltanto un'idea, per cui lui non ha potuto vedere, perché la mia intenzione era di far cantare questa meravigliosa canzone, da personale, da operatori sanitari, oltre che da persone del luogo, anche artisti del luogo. Insomma, lui non ha visto niente, però sulla fiducia, su quel colloquio, lo stesso giorno mi ha fornito la base musicale, però ha voluto anche che la sua voce fosse dentro come segno di partecipazione di questo evento. Io lo ringrazio. Una canzone, una rinascita con i volti di chi ogni giorno è vicino ai pazienti in ospedale, rinascerò, rinascerai.